Enjoy Fest 2019, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre, San Giorgio Ionico, via del Tintoretto e via Tiziano, zona 167. È un evento organizzato dal comune di San Giorgio Ionico, dalla Proloco di San Giorgio Ionico e dall'Arci Bounty Club, con la collaborazione di Centro Anziani Diversamente Giovani, PCGL, Ors Club Terre Ionico, Associazione In Progress, Media Partner, Giornale Armonia.it, eventi sociali di musica e di spettacolo, artisti di strada, mercatini, food, birrifici artigianali. In particolare, venerdì 27, Vincenzo Pulpito DJ, più special guest, Samir Sosa. Alcuni appuntamenti di sabato 28, dalle ore 19, musica, balli, karaoke, a seguire i clowni. Alle ore 20 e 30, Francesco Scimeni in Magicomio e a seguire il concerto di Banana Republic. Domenica 29, ore 20, concerto Barba Blu, divertimento a Pua. Enjoy Fest ti aspetta, non mancare!